Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle nuove ON Cloud Water Waterproof Una scarpa da trekking molto interessante perché ON utilizza delle tecnologie sempre particolari Adesso le vediamo insieme e ne vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa Iniziamo come solito con qualche dato fornito dalla casa Per quanto riguarda queste Cloud Water troviamo una suola realizzata in Mission Grip, proprietaria ON L'intersuola ha due tecnologie, la Speedboard e la tecnologia Cloud Tech Per quanto riguarda la tomaia è impermeabile e nella versione da uomo pesa 390 grammi Mentre nella versione da donna 320 E adesso che abbiamo visto qualche caratteristica iniziamo con i pregi e difetti Iniziamo come al solito dalla suola e come vi dicevo suola proprietaria chiamata Mission Grip È una suola molto morbida che ha veramente un ottimo grip È una suola che va bene, vabbè, sull'asciutto praticamente ovunque, anche roccia non ha nessun problema Sul bagnato devo dire che anche roccia bagnata tiene abbastanza bene Per quanto riguarda il fango, anche lì se la cava abbastanza bene Perché comunque ha dei tasselli, se si possono chiamare così, veramente molto pronunciati Soprattutto poi in mezzo tra questi tasselli c'è praticamente diverso spazio in cui il fango può andare via e liberare la suola Quindi devo dire che è stata una suola molto interessante da provare perché veramente ha un ottimo grip E l'unica cosa però, l'unico proprio punto negativo è che su ogni tassello praticamente c'è una piccola zona zigrinata che va ad aumentare nel grip Ed essendo abbastanza morbida questa zona zigrinata sta andando via abbastanza velocemente Passando all'intersuola troviamo due diverse tecnologie Cloudtech e Speedboard Cloudtech è costituita da delle zone comprimibili che vanno a reagire in base al nostro modo di muoverci E che applicano appunto una compressione diversa in base alla zona della scarpa Speedboard invece è una piastra a tutta lunghezza Che sfrutta l'energia che generiamo nel momento in cui camminiamo per restituircela nel momento in cui facciamo il passo successivo La piastra gli dà sicuramente una certa rigidità Però in compenso la tecnologia Cloudtech fa sì che la scarpa sia veramente molto ammortizzata Noi l'abbiamo utilizzata per un'escursione anche di 10 ore e siamo tornati a casa che non eravamo distrutti Quest'intersuola è da provare veramente perché è diverso da tante altre scarpe che trovate in commercio Non è la classica schiuma e fidatevi ve ne accorgerete solo provandola Passando invece alla tomaglia per quanto riguarda il puntale Troviamo un puntale abbastanza rigido Roba che se ci prendiamo dentro qualche roccia o qualche radice non sentiamo male la punta delle dita Per quanto riguarda invece la tomaglia in sé Innanzitutto è waterproof e ONN utilizza una tecnologia proprietaria per quanto riguarda la membrana E però devo dire che è abbastanza poco traspirante È una scarpa che noi abbiamo utilizzata un po' sopra i 30 gradi in questo fine agosto E devo dire che abbiamo sudato dentro un pochino Quindi bene l'impermeabilità ma non tanto la traspirabilità Di contro invece viene utilizzato un materiale veramente molto duraturo Proprio anche a toccarlo, a prenderlo in mano Si sente che è un materiale che durerà sicuramente nel tempo Quindi non ci sarà sicuramente problema che la tomaglia possa strapparsi Abbiamo poi due diverse zone di tomaglia Perché quella anteriore è un pochino più traspirante Mentre quella messa nel mesopiede è un pochino più contenitiva Anche per fasciare bene tutto il piede nel momento in cui andiamo ad allacciare i lacci Quindi diciamo che in generale anche per quello che riguarda la calzata È veramente molto precisa e la scarpa avvolge veramente bene il piede Passando invece al tallone Troviamo un tallone molto rigido nella parte inferiore Veramente ben strutturato Che pian piano si destruttura Pian piano che saliamo Arrivando nella parte superiore a essere abbastanza morbido Per quanto riguarda invece l'imbottitura È veramente molto imbottita Soprattutto nella parte superiore è una scarpa molto imbottita E il momento in cui si va a camminare di traverso Facendo qualche traverso obliquo Devo dire che svolge un ottimo lavoro A livello di stabilità Devo dire che tra un tallone abbastanza rigido E poi la tecnologia Cloud Tech Soprattutto quella nel tallone Devo dire che è una scarpa abbastanza stabile È comunque una scarpa bassa Però tra le varie tipologie di scarpe basse Io con questa non ci ho presa nessuna storta Quindi sicuramente molto molto stabile Passando al sistema di allacciatura Questo è abbastanza classico Troviamo però dei passanti Che sono più tipici di scarponi mid O comunque scarponi alti E che ci aiutano a fare un'allacciatura Che duri nel tempo E che riusciamo a personalizzare abbastanza Per quanto riguarda invece la linguetta Questa è molto imbottita Soprattutto nella parte finale E non si muove durante l'escursione Quindi ci è piaciuta Per quanto riguarda la soletta Questa è proprietaria on È rimovibile E noi ci siamo trovati bene Quindi andremo avanti a utilizzarla senza problemi A livello di calzata Per quanto riguarda la grandezza dell'avampiede È un'avampiede diciamo abbastanza normale Non è né wide né stretto Diciamo che si può prendere benissimo Il numero che siamo abituati senza tanti problemi E questo poi gli dà anche una buona precisione Per quanto riguarda l'avampiede Non troppo grosso Gli dà anche una buona precisione Dunque a chi consigliamo queste Cloud Wonder Diciamo un po' a tutti Può andare bene dal principiante L'intermedio L'esperto Quello non è sicuramente un problema Quello che fa la grossa differenza invece È dove utilizzarle Diciamo tutti quei sentieri Escursionistici o turistici Evitate quello che sono escursioni Se esperti Evitate tutto quello che è roccia Praticamente Tutto quello che è roccette Tutto quello che è praticamente Un po' di tecnico Dunque arriviamo alle conclusioni Per queste On Cloud Wonder Waterproof Innanzitutto vengono vendute da On Sul loro sito a 190 euro Ma online si trova tranquillamente Sui 175 e 180 Noi ve le consigliamo Sì Sì ci siamo trovati molto molto bene È da provare È da provare perché comunque Si si è abituati a utilizzare Soprattutto dell'intersuola In schiuma Molto più classici Come possono essere altre scarpe È veramente una sensazione diversa Perché quando le si utilizza All'inizio sembra di avere una scarpa Molto secca Davvero molto molto secca Ma alla lunga ci si rende conto invece Che questa secchezza È ottima Per avere una scarpa precisa Ma soprattutto Poi si si rende conto Che non si si stanca E le articolazioni Non hanno problemi Quindi Si si rende conto Che alla fine La tecnologia Cloud Tech Fa veramente la differenza È difficile da spiegarvi La sensazione Il mio consiglio è Provatele Perché sono veramente Qualcosa di diverso E detto ciò ragazzi Noi alla speranza Siamo stati Esaurenti e sostiti Anche per questa recensione Vi ringraziamo per aver guardato E noi ci vediamo Alla prossima Ciao Ciao Ciao